Ha scalato le classifiche mondiali, ha dominato i palchi internazionali e ancora c'è chi canticchia Not Fair or Fuck You il 2008. Ultimo lavoro per Lilian Len nel 2018, un racconto introspettivo che ha preso il nome di No Shame. Da quell'ultimo album più niente. La cantante britannica ha dovuto dedicarsi sempre di più alla famiglia, lasciando indietro la carriera artistica. E rimpiange la sua vita precedente, come ha raccontato in un'intervista a Radio Times. Lilian Len fa un bilancio sulle scelte compiute negli ultimi anni e spiega di aver messo da parte la musica per dedicarsi alle sue due figlie, Ethel Mary e Marnie Rose, avute con l'ex marito Sam Cooper. La più grande ha 12 anni, la più piccola di ei. Le adoro, mi completano, ha spiegato. Ma hanno rovinato la mia carriera. Senza filtri, la cantante di The Fier ha fatto il punto sulle difficoltà reali nel coniugare carriera e famiglia. Mi dà davvero fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché, francamente, non è possibile, ha detto durante l'intervista. Alcune persone scelgono la carriera, piuttosto che i figli. Questa è una loro prerogativa. E poi fa un salto nel passato, ricordando la sua infanzia e aprendosi sul rapporto con i suoi genitori. Erano abbastanza assenti quando ero bambina e sento che questa cosa ha lasciato delle brutte cicatrici, che non sono disposta a ripetere sulle mie figlie. Figlia di Keith Allen, attore e musicista, e della produttrice cinematografica Alison Owen, è cresciuta nel quartiere londinese Hammersmith. In seguito, i numerosi trasferimenti in città dopo la separazione della coppia, quando Lily aveva quattro anni. Difficile il racconto con il padre, nei miei primi trenta anni di vita ho passato più tempo a passeggiare con i miei cani che con mio padre, aveva dichiarato qualche anno fa. E a proposito delle sue figlie aveva messo in chiaro. Voglio che abbiano un'infanzia perfetta. A differenza della mia. Non voglio che passino il weekend in una camera al Graucio Club con un Toblerone a farli compagnia. Oggi Lily Allen vive a New York insieme alle due figlie e David Harbour, attore star di Stranger Things che ha sposato nel 2020. Oltre le dichiarazioni, nessun suggerimento su un possibile ritorno nel mondo della musica. Anche se la volontà sembra proprio esserci, ora che le figlie iniziano a diventare grandi.